Nel silenzio del quartier generale di Monte Falcione, la famiglia D'Agostino sta provando a gettare le basi per la rinascita di un avellino che sta tormentando le loro giornate e soprattutto quelle dei tifosi. I risultati, non in linea con il budget investito e le aspettative, inducono ad un cambiamento che gravita al confine tra la rivoluzione e la ristrutturazione. Accantonata la prima ipotesi unitamente alla proposta venuta dal progettista Ernesto Salvini, da sabato scorso si lavora solo ed esclusivamente all'idea di mettere mano alla struttura attuale con l'architetto Giorgio Perinetti. L'esperto direttore sportivo attualmente a Brescia è rientrato alle 4 di questa mattina dalla trasferta di Cosenza dove le rondinelle hanno perso per 1-0 il primo round, un risultato negativo che unito alla divulgazione della notizia di un possibile incontro a Salerno avrebbe ufficiosamente fatto slittare l'incontro deviso con il D'Agostino di una settimana. Condizionale d'obbligo che non incide sul cronoprogramma dal momento che il filo diretto è sempre più caldo e alcune decisioni anche già prese. Quella del ritiro, ad esempio, vede la dirigenza ormai ai dettagli per definire il suo giorno estivo della squadra a Palena, ma la notizia più importante trapelata da questa mattina riguarda Giovanni D'Agostino. L'amministratore della IDC, per sua espressa volontà, ha deciso di limitarsi a fare il proprietario senza entrare in alcun modo nella sfera operativa e tecnica che sarà ad esclusivo appannaggio di Giorgio Perinetti.